Ladies and gentlemen, direttamente da Torino, Torino, vi aspettavate, Chesterfield, no, Torino, direttamente da Torino abbiamo l'onore di avere con noi la persona che in questi ultimi 2, 3, 4, barra 16 giorni è stato sulla bocca veramente di tutti, direi più sulle dita che pigiano la tastiera di tutti. Lo che è, il grande, e irreprensibile. Zio Garbe? Ehi, ma buonasera, oddio mi vedo. Sì, 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 ecco il Loki Gobbo. A proposito, tra l'altro non ho detto, mi raccomando, cioè, siate carini, come sempre insomma, perché lui già... First reaction, shock. Dica, dica zio, lei non è un tipo che si offende. No, perché sennò non farei YouTube, gioia. Vero? Perché che succede su YouTube? Siamo persone brutte. Vinza! No, non è vero. Cosa succede su YouTube? Dica, no, allora qua si può confessare, vuol dire tutto quello che... Tutto quello che non è mai stato possibile dire alla sua persona perché... perché si trova di solitamente nei suoi canali che sono... Che sono di Chiellini, adesso me ne vado, mi sono offeso. Cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Mi hanno detto fratello di Chiellini, oddio. Perché? È stato bello, lo sapevo, basta. Lo sapevo, basta, no, questo Chiellini... Vabbè, quindi comunque ricco, comunque ricco. Sì, sì, ricco in una casa dove mi piove in casa, quindi ricco dentro, ricco di esperienza. Se fosse ricco, zio, se fosse ricco, cosa farebbe nella vita? Farebbe lo YouTuber? No, 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 perché mi stuferebbe, no. Se fosse il mio unico lavoro smatterai più di quel che smatterai. No, ma se fosse ricco, se può campare di rendita. Se fossi ricco... Non farebbe YouTube? No, però aprirei un negozio di Magic. Così. Quindi, la vera passione... Quindi possiamo dire che la vera passione è Magic più che fare il content creator. Sì, quello... Praticamente. In base, sì. Ma in generale i giochi di carta e tutto. Ma perché io se fossi ricco farei esattamente quello che sto facendo ora? È perché tu sei una persona felice. Molto. Di fare che forse no, aspetta, felice no. Io forse no. Esatto. Zio Garpez! Il peggio di me, la depressione, il dolore. No, non è vero, dai. Però, fossi ricco, investirai in figurine. Ma è un po' che non la vediamo, zio Garpez, no? Perché la gente, giustamente, infatti... Secondo me è anche per questo, no? Abbassa il volume dei vocali sono altissimi. Vabbè, abbiamo abbassato. Adesso dovrebbero andare meglio, spero. Però voi non li provate nel dubbio. Quindi chiedevo allo zio Garpez. Intanto, ecco, è orgoglioso. No, mi sembra che sono ancora alti. Mi pare che sono ancora alti. Aspetta, 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 aspetta. Vabbè, facciamo una cosa. Parlero piano. Tolgo direttamente, proprio, direttamente, il Streamlabs chatbot. Allora, dicevo. Signor zio, ma come la... Cioè, se l'aspettava che a un certo punto il suo maggior successo lo avrebbe ottenuto attraverso chat di altri canali? Adesso è l'altra persona più chiacchierata. Anche se vada a curo Lili, stessa cosa. Ma non credo, non credo, dai. O hai avviato un trend a mia insaputa. Eh. Però, cioè, è una cosa che comunque può fare comodo, no? Ah, sì, sì, sicuramente. Ma fai vedere se sono aumentati gli iscritti di YouTube. Eh, controlliamo. Magari sono anche scesi, potrebbe essere. Può essere. Potrebbero essere diminuiti improvvisamente. Allora, fai vedere. Aspetta, eh. Cazzo, non carica. Ma te con YouTube come sta andando? Allora, infatti, io anche per questo l'ho invitato, dottore. Perché, lo possiamo dire, questo non è un meme, non è una battuta. Cioè, abbiamo qui, questa sera, il re assoluto della magia italiana per quanto riguarda... No, vabbè. ...i social di YouTube. No, non va bene un cazzo, è così. Per quanto riguarda YouTube è così. Cioè, che le piaccia o meno. Ho capito che lei voleva non avere successo, voleva essere sfigato, voleva piangere. Però, su YouTube, effettivamente, il più seguito in assoluto... Capito che siamo tutti straccioni, però tra gli straccioni... Sì, siamo tutti straccioni, gioia. Tra gli straccioni, quello che comunque si distingue per essere un po' meno straccione è lei, sicuramente, zio. Eh, no, dai, non è vero. Vabbè no. Nel mondo moderno vale di più Twitch, purtroppo, aggiungerei. Infatti dicevo io, per YouTube, stavo dicendo. Vabbè, certo, ma lei su Twitch non ci sta, quindi è ovvio... No, non ci sta più, no, no. Eh, non ci sta più. Come mai non ci sta più? Dai, ci dica subito questa cosa. Partiamo dalle cose brutte, dalle note dolenti e poi passiamo a quelle piacevoli. Sai che ho un flashback? Perché tipo un anno fa ero già venuto ospite e c'erano le stesse domande. Eh, ho capito, però è passato un anno. È passato un anno e non è cambiata la situa. No, in realtà sì, cioè, cambiando un po' lavoro, senza un po', cambiando lavoro, manca la voglia di fare dirette, purtroppo. Preferisco rimanere nella mia nicchia di YouTube felice e andare a ritmo basso. andare live su Twitch una volta ogni due settimane mi rompe e quindi... Ma ovviamente stiamo parlando di una cosa surreale perché comunque il mio canale non ha purtroppo questo potere così influente da poter, come dire, rivoluzionare le sorti di un content creator o di un individuo in generale. Ma se per caso io, non fossi io, ma fossi Power, no? E la cosa fosse diventata virale nel canale di Power, lei a quel punto avrebbe potuto ottenere un beneficio reale, realmente importante, anche su YouTube, insomma, in termini, diciamo, di numeri, intendo, ok? Quindi, nel momento in cui lei dovesse esplodere ulteriormente rispetto a quanto già non lo ha fatto in passato, cosa farebbe? Sarebbe spinto, sarebbe spronato? No, no, no. Non gliela frega niente, non gliela frega niente. Niente. Nel senso, a me piace parlare di Magic e mi piace come hobby, ma preferisco il mio lavoro, cioè mi diverto di più col mio lavoro. E se vedessi YouTube come rincorsa, mi stuferei proprio subito. Cioè, per come sono competitivo io, non la vivrei bene. Non so come spiegare, però non mi fregherebbe. Tutto ciò che vuole, puoi dire. Noi staremmo qui ad ascoltarla per ore. Oh, ma che bello. E ad guardarla per ore. Ma ascoltami, ti faccio una domanda. Prego, prego. Uno dei commenti che più mi fa soffrire sotto i miei video YouTube è sulla G dolce. E l'altro giorno ho conosciuto delle... sì, è sulla G... G... Ok, ah, certo. Ma senti? Sì, sì, la sento. Ti senti così tanto? Beh, un pochino sì. Non è molto... Adesso l'ho capito. Ma è un trauma, eh. Vabbè, addirittura. Vabbè, ma è così. Non è grave. Cioè, allora chiedono... Quelli che c'hanno la R-Mosha... No, beh, la R-Mosha ha più senso. È molto più accettata. È più accettata dalla società. Ma insomma... No, perché la G dolce è molto meno percepibile. Infatti lei ha la veneranda età di quanti anni? 28, quasi 29. 29 anni. Eppure più giovane di mezzo, Garb. Maledizione, va. Volevo portare uno più vecchio. Ma se hai giovani, bene. Sembrava più giovane. E invece alla fine era più giovane. Comunque sia, se in 28 anni nessuno l'aveva mai presa in giro per la G dolce. È perché non è così evidente. Quindi la R-Mosha può essere molto più traumatizzante, no? In una scuola, che ne so, all'asilo, eccetera, no? Nel senso, nessuna delle due andrebbe comunizzata. Rido leggendo. Rido leggendo la chat. Che dicono, che dicono? Cagate. Ah, leggiamo un pochino la chat. Allora, intanto c'è Zio Garb che dice che dite cagate. Quindi andiamo a leggere la chat. Minchia, sono più grande io. C'è Akira per quel... C'è Akira cosa? C'è che ha l'inglese Mosho. Sì, io vabbè. Io non ho l'inglese proprio, direttamente. Zio Garb sembra mio nonno, 29 anni portati male. Vero, vero. Vero? Un cuermo. Quanti anni... No, adesso, allora, dite voi. Siete gentili. Anche se non per forza dare una... Cioè l'unica accezione negativa della vecchiaia... Sai quel programma cringe della televisione? Beh, quasi... Dell'età. No. Sì, beh. Ah, dell'età. No, ti devono indovinare l'età. Ora invece datemi voi un'età. Date un'età, Zio Garpez. Vabbè, io onestamente, devo dire la verità pure, secondo me 28 no. Io pensavo un po' di più. No, io pensavo... Io pensavo circa la mia età. 70. No, 70... No, dai, non dite cazzate. 70 dite con... Se fosse dipinto. Però scusami, Jack, cioè tu hai due anni più di me. Non è che c'è questo divario. No, ne ho di più. Ne ho 30. Tra poco ne faccio 30. Ma tu sei del 90. Io sono del 90. Io Zio Garbe 92. Sono di dicembre. E quindi fra poco ne fai 29. Eh sì, ma non lo dico. No, non lo dice. Ah, c'è il suono di passare... Eh, finché non è dicembre, porca troia, non lo dico che ho 29 anni. Ma lo viverà male questo momento? Come vive la vita lei? Io? Male? Vivo male tutto, quindi... Ma perché? Davvero? Ma va dallo psicologico. No, 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 esagero come il mio solito. Esagero, però un po' di... Secondo me un fondo di verità c'è questa cosa. Sì, sempre, sempre. Un pochino di sofferenza. Un po' di male di vivere, sì. C'è un po' di male, vabbè. Leopardi ha... È sinonimo di intelligenza. Zio Garbe lavora allo store della Juventus. Porca scoglia. Non lo so. Ma questo mi fa star male. Perché? Perché? Perché di che squadra hai? Del Torino. Io sono del Torino e sono anche abbastanza tifoso, appassionato. Ah, tifoso del Torino. Purtroppo. Purtroppo perché? Il Torino, io non seguo molto il calcio. No, quest'anno sta andando meglio. Andando meglio? Sì, sì, sì. Siamo contenti. Mi fa ridere questo commento. Questo contrasto tra la pacatezza dello zio Fabrizio, che mi piace come... No, Mignolo. E l'irrequietezza di Jack e Spettacolo. Hai visto? Un duo comico, sì. Sì. Eh, vabbè. Sì, sì. Yuri ce bello allenatore, sì. Ti sto rubando il posto. Zio Garbe cuore Toro. Bremer da gioia. Mi piace leggere la chat degli altri. Legga, legga, legga. Certo, è ovvio, perché è completamente nuovo. È qualcosa di nuovo, che però parla di te. Quindi è per forza interessante. Perché leggere la propria chat, nel senso già da un po' di... Sai cosa ti stanno per scrivere all'incirca. Quello più o meno. Però sì, sì. Sì, è una lettera, però nel senso è comunque un contesto nuovo. Zio Garbe, allora, presentate. Invece di presentare Zio Garbe, già lo sapete tutti che cazzo è la presentazione di Zio Garbe. Presentatevi voi a Zio Garbe, presentatevi voi a Zio Garbe. Bello, bello questa idea. Presentatevi voi. Basta domande a me. Dicemi chi siete. Cioè, scrivete chi siete e io vi dirò chi siete davvero. Sì. Anche dal nickname, mi piace. Potresti... Fai una reaction, no? Una reaction, va bene. Una reaction reale. Cosa pensi? Come ti hanno detto, mi sembra un vecchio di merda di 70 anni. Tu dici, questo mi sembra un coglione, per esempio. Puoi dirlo. No, no, no. Se lo pensi, se lo pensi lo puoi dire. Inutile non dirlo. Qua non c'è ipocrisia. Sentiamo Cina Bruno. E il dissing che ci avevano promesso? Ma qual è il dissing? Il dissing, niente. Ma il dissing adesso con calma, ho bisogno di views. Ma poi come si fa a dissare una persona così carina? Ciao zio, sono iniziato a giocare a Magic grazie a te. Vedi, questi... Oh, che carino. Tu sei una grande persona. Zio, cosa ne pensa di Ferrari Prada? Unico podcast su Magic, grazie. Io non leggo a lungo termine BMW Mini. Io ho una Mini. Ti interessava che ho una Mini? Che macchina hai tu, Jack? Io ho una Toyota Ego, quel che ne rimane di una Toyota Ego, perché purtroppo diciamo che vivo in una zona malfamata. Una zona di merda. Dove addirittura, purtroppo so che questi vanti li possediamo soltanto al sud, solo nel regno di Terronia. Avvengono determinate cose. Noi abbiamo le gare dei cavalli di notte, per strada. Cosa sarebbe il track? Grandestine, ovviamente, dove probabilmente si fanno anche molti utilizzi di droghe, ma non per i fantini, ma per i cavalli, ovviamente. Ci sono le scommesse, le grandestine. E niente, insomma, vivo in questo contesto. Quindi io lascio la macchina, dopo aver pagato 1200 euro dal lattoniere, posta posteggio, per strada, perché purtroppo non ho un parcheggio privato. E poi domani mattina la ritrovo disastrata. La prima volta ho pagato questi 1200 euro dal lattoniere, non era una cifra a caso. E poi, le volte successive, ho deciso di lasciarla distrutta, finché appunto, finché cammina, non mi interessa. Tipo se striscia il paraurti per te, non mi interessa. Beh, è giusto, è così che si trattano le macchine. No, vabbè, basta. All'inizio ci tenevo, ma voglio fare bella figura. Adesso devo uscire una ragazza, porto la macchina dal lattoniere. Perché, niente, poi invece adesso mostro tutto e subito, la vera natura mia e del luogo in cui vivo, quindi anche dell'auto. E beh, sono esperienze, è uno scambio di esperienze. Comunque mi pare che tu la vivi accettandola. Sì, è vero, certo. Ma si figuri, cioè se non si accetta questo non si vive veramente male. Il male di vivere già è tanto nel momento in cui ti accorgi dell'inutilità dell'esistenza. Poi... Eh, no, infatti, cazzo, la penso anch'io, ma sei una persona profonda. Non si vedeva. Non si percepiva. Sì, 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 capiva che c'era un po' di male di vivere, sì. Si capiva, c'è il leopardi, la maschera, la maschera che ride e sotto piange, come sempre. Sì, sì, sì. La mia mogi favorita. Ricky Salmi dice, io sono un grande fan di Zio Garbe, da quando ho iniziato a Magic. Per motivi di lavoro sono poi passato al lato oscuro della magia notturna, ma zio sempre nel cuore. Quindi zio, beh, zio sempre nel cuore. Quindi non ti prego nemmeno l'utenza, perché la gente ti guarda di giorno, alla notte, non sa che fare, guarda me. Beh, ma sta cosa del fregare l'utenza è sopravvalutata. Vero, vero, verissimo. Perché nessuno frega niente a nessuno. Cioè non è che, a meno che uno non sia sul cazzo e uno dice, basta, Zio Garbe mi sta in culo, o scusate, e seguo Jack Torrance perché mi è più simpatico. Però, cioè, ci sta. Oppure quello che succede a me, visto che il mio canale in realtà è indirizzato più ai nuovi giocatori, la gente quando inizia a giocare bene smette di seguirmi. Ah, diciamo, questo mi può solo fare peggiorare a un certo punto. Sì, però rimane l'affetto, me lo dico. Certo, ovvio, perché comunque lei è come il primo fidanzato. No, no, che tristezza. No, certo, è così. Eh sì, la prima esperienza è vicinale. La prima esperienza è, come dire, no? Li ha deplorati fondamentalmente. Sì, 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 sì. Sì, è quella la cosa. Lei quante fidanzate ha avuto, Zio? Lei possiede una fidanzata adesso? Possiede? No, possiede mi sembra brutto. Mi sembra un oggetto. Possedevo. Adesso è single. Singolo. Perché questa mi sembra una notizia, comunque, non da sottolineare. Sì, da quattro mesi. Sì, la sto vivendo bene. L'ho superata. Da quattro mesi, ahia! Allora potrebbe essere uno dei fattori, come dire, un pochino della del suo, di vivere ultimo. Adesso adesso la sbifferiamo. Sì, 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 sicuramente la sbifferiamo, ma sicuramente è inciso anche sulle pubblicazioni di Zio Garbe, diciamocelo. Amocelo. Vero? Ecco. Però come storie, serie... Quanto era stato? Aspetti, da quanto stavamo questa ragazza? Ringrazio nel frattempo anche signor Androx. Grazie Androx, grazie mille. Dica, dica. Cinque anni e mezzo. Ah! Cinque anni e mezzo non sono mai stato fidanzato, trovo tantissimo tempo. Eh, ma stavo ragionando l'altro giorno che io, da quando ho diciannove anni, che sono praticamente sempre stato fidanzato, mai solo. Male. Questa è una cosa che fa riflettere. Eh, ma, ok, quindi fa riflettere nel senso che lei ha sempre... Che non riesco a stare da solo. Non si basta da solo. No, no. Cioè, deve bastarsi invece. Eh, sì, sì, stiamo lavorando. Oddio, ma... Io ero qua per guardarmi giocare. Ma signor Zio? Sì, invece... Appunto, no, perché non è che si può sapere realmente, no? Cioè, io le auguro di no a questo punto, visto che mi sembra una persona che... Nonostante abbia sofferto e ancora avverto all'amore, pare di sì, pare di sì. E tra l'altro ci sono... Io conosco un sacco di ragazze che fanno anche le streamer su Twitch, che non vedrebbero l'ora, insomma, di assaggiare il velocirafter che è in lei. Ok. Detto ciò, detto ciò, però c'è anche, come dire, la possibilità, seppur remota, che le rimanga solo a vita. Quindi... Ah, sì, sì, sì. Certo, quindi deve... Deve anche, come dire, no? Io, per esempio, ci ho preso gusto. Mi piace un sacco essere single. Ma ti dico, cioè, in quattro mesi è un po' presto per dare effettivamente un resoconto. Però non è che sto male, eh. Eh. Non è che sto male. Beh, dopo quattro... Allora, posso... Dico la verità, mi chia, quattro mesi sono pochissimi. Cioè, la rottura definita... Vi sentite ancora? No, no, no. Non vi sentite assolutamente più. Allora, la rottura definitiva è un lutto, fondamentalmente. È un lutto. È come se fosse morta questa persona. All'improvviso. Sì, come i video YouTube che guardavo quando ero triste. Bello YouTube. Un medium molto interessante per informarsi. Eh, certo. Soprattutto su Magic, cercando Zeo Garbe. No, scherzo. E niente, quindi dicevo che comunque ancora quattro mesi sono pochi. Perché per elaborare un lutto circa ci sono... Il cervello ha bisogno di tipo nove mesi, se non erro, circa. È la mamma. Quindi ancora è molto fresca. Lei però ha reagito, nonostante, insomma. Sì, sì, sì. Faccio anche quella cosa che si chiama port. Cos'è? 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 Non è interessante. Non lo so. È una cosa che avevo dimenticato. Anche attività fisica. Sì? E una dieta. Ah. Queste tre cose. Sì, pensa che... Ho imparato tre nuove parole. Beh, non è male. Eh sì, sì, sì. Non è male. Guardi, è reale. Nel senso... Faccio un po' fatica a pronunciarle perché sono entrate nel mio vocabolario da poco. Ma quindi ci sfoggerà anche un fisico scolpito? No, ora no. Aspetta. È iniziato tutto da troppo poco, dammi nove mesi. Ma lo ha fatto? Ho fatto per distrarre la mente, oppure per diventare una donna in modo tale che poi dici, ah guarda cosa ti sei messa. No, 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 per stare meglio con me stesso. Non si piace esteticamente? No, no, quello mai, mai piaciuto. Però che devo farci. Beh, non è brutto, zio Garber. No, no, sono accettato. Ho personalità. Ho carisma. Sì. Ho una voce profonda. Eh, su quello non c'è dubbio. C'ha gli occhi azzurri, tra l'altro, mi sembra. Ho gli occhi azzurri, sì. Ragazzi, gli occhi azzurri in Italia sono desiderati perché sono rari. Eh, sì. Diciamo di più con le coreane. Grazie, grazie Atomic, AIDS93, welcome. Grazie Atomic, welcome, welcome. Vabbè. Ma scusami, non sai l'inglese e metti gli alert in inglese, ma psicanalizziamo questa cosa. È perché fingo di saperlo. Cioè, nel senso, poi lo dico, no, in realtà fingo poco, all'apparenza, no? Però se, come biglietto da visita, dici subito, questo non sai l'inglese, è ignorante, manco ci entro in canale. Ah, ok. Poi faccio un po' di autoironia sul fatto di non sapere che cosa devi fare nella vita. Quando hai un difetto evidente e non riesci a fixarlo in alcun modo, l'unica chiave è fare autoironia. Ma infatti tu mi hai detto, prima di venire sul canale, ma sei uno che se la prende? No. Cioè, mai. Eh, capito. Tranne sulla G-motion, G-mole. Eh, no, perché io conosco persone che invece, al tuo posto qui, probabilmente se la prenderebbero moltissimo. Quindi io, nel dubbio, chiedo prima, capito? Chiedo. No, ci sta, ma lo so, ci sta, è vero, ma io quello che dico è, se tu ti metti su YouTube a parlare su un qualsiasi medium internet e non sei pronto alla critica, allo sfotto, alla presa per il culo, a diventare un meme, significa che hai sbagliato. Ed è un po' il problema dell'internet moderno, questo, mettiamola così. Diciamo anche che, cioè, non lo sai finché non lo provi. Ringrazio mister Capitan Birbante, benvenuto nella Gold Room, mediante Bezos, nonché Prime. E questo, no? Cioè, non lo sai finché non lo provi. Una volta che lo provi, lo scopri. Aspetta, c'è un commento che mi fa volare. Fare psicanalisi con Jack in live su Twitch, un chiaro segno di scompenso psichico severo. Da parte mia o da parte sua? No, mia, mia, mia. Ero io il soggetto. Può essere, può essere, ci sta. Scompenso psichico. Allora, a me sembra una persona, allora, lo dico, sembra una persona molto pagata, zio. Però mi sembra, mi sembra un po', no? C'è un bellissimo pezzo in terapia d'urto con Jack Nicholson che dice, no? Ci sono due tipologie di persone. C'è la tizia che entra nel supermercato, che inveisce subito, insultando la cassiera perché non gli accetta i buoni pasto. E quella è un tipo di persona esplosiva. Poi c'è invece la cassiera che si sorbisce tutti i giorni. La signorina che inveisce per i buoni pasto, assorbe, assorbe, assorbe. E poi a un certo punto esplode e fa secchi tutti. Ecco, zio Garbe, secondo me, è la cassiera. No. Non è una cassiera. No, 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 attenzione, perché tu hai il percepito di zio Garbe. Che io a zio Garbe ho dato un tono che mi son studiato, family friendly. Ma ad esempio, io quando esco con i miei amici, sono estremamente non family friendly, mettiamola così. E quando la gente mi incontra di persona, un po' questa cosa, la vedo che la delude. No? Che non sei family friendly. Il tuo coglione. Perché, come dire, si ponevano in automatico già come maschi alfa rispetto alla sua persona. Invece, sono prima di essere dei beta. E dei beta, esatto. Che in realtà sono un chad. No, non è vero, non sono un chad. Però il discorso è, zio Garbe io l'ho voluto tenere family friendly, volutamente. Ma io di persona poi sono differente. Ma questa è tra l'altro una scelta interessante. Per quale motivo ha scelto di fare family friendly un personaggio all'interno di Magic? Che è un gioco che il più piccolo, ha 40 anni, il morbo di Varson. Piaciuta la definizione. Perché io volevo fare quello che mi piace guardare. su YouTube. Quindi a te dà fastidio? No, 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 un fastidio. Non ti piace? No, no, il cazzo. Cioè, no, scusami. Ma che scusami cosa? No, il cazzo non è che mi dà fastidio. Però ho detto, ma che cosa mi piace a me guardare di Magic, ai tempi anche di Varson, questa tipologia di content. E mi piaceva. E quindi mi è venuto naturale farlo così, family friendly. e fare un po' il contrasto di quello che sono, ad esempio, nella vita reale. Così, non è una maschera. Io sono davvero zio Garbe, ma mi piace l'impronta che ho dato. Quello accogliente, family friendly, eccetera. E diciamolo sto cazzo. Eh, vabbè, no, raga. Però ad esempio sul lavoro io sono molto cattivo. È molto cattivo. Cioè, cosa fa di cattivo sul lavoro? Ma è smatto, cioè faccio il matto. E intanto che lavoro fa zio Garbe? Eh, io... Si può dire? Sì, dai, faccio project manager per pro gaming. Che è un'azienda che organizza tornei, eventi. Sei un manager, quindi c'hai dell'azienda da insultare. Io gestisco cose, gestisco persone. No, no, insultare no, però... Poi smatti con le persone, insomma. Diciamo che... Sei il cattivo, sei il cattivo. Sì, sono il villan, non mi piace. Sì, il villan dice... Ah, che palle, cioè, qui è arrivato. Sì, 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 sì. Ne lo sono inventato, no? Come no? Dobbiamo vedere il vero zio Garbe. Ma il vero zio Garbe lo vedete su YouTube. Semplicemente... Mi contengo. Ma anche perché c'è un motivo. Anche un motivo, eh, per cui mi contengo. Perché io ho quattro nipoti, sono il mio zio di quattro nipotini, e quindi ho sempre detto, diamo un buon esempio. C'è un freno. Perché buon esempio? Chi lo dice? Perché lei pensa che i suoi nipotini quando cresceranno non diranno le parolacce? No, bestemmiano come dei matti. Ciao. Ciao, sorella. No, no, bestemmiamo insieme. Non sono un buon zio. Ieri ho suggerito Tinder a mia nipote, cioè... E perché? Perché c'è male questa cosa? Perché c'è un'accezione negativa di Tinder, del turpiloglio? No, ecco, no. Perché c'è un'accezione negativa? È reale oppure viene ripetuta semplicemente perché... No, no. Perché ciò suggerisce la società? La società, cioè io sono super pro Tinder. Nel senso, il fatto che in Italia, solo in Italia, venga visto da sfigati... Ma anche da chi? Da tutti. Vero? Tutti, sì. Ma la concezione... Mia nipote aveva una paura incredibile. Cioè nel dire, oddio, se becco qualcuno penso che sono una sfigata. Ma poi ho beccato amicizie un tempo su Tinder. Ho detto, ma ti ho beccato su Tinder? No, oddio, è stato un errore per finta. Eh, la madonna che... Terriba, perché poi è la classica cosa che poi hanno tutti. Hanno tutti. Assolutamente tutti. Tutti lo fingono all'ora di non averlo. Ma mi sembra un po' strano. Ma poi, scusi, lei è del nord, non capisco. Posso dire che in Sicilia è una cosa così? Perché c'è il mito del super uomo che il loro uomo vi rilesce di casa e ne trova tre, quattro. No, no, no. Senza più di Tinder. Torino poi siamo iperchiusi e quindi c'è molto questo bigottismo, eh. Vero? Attenzione. Eh, sì. Male, perché Torinè... Allora, Torinè si in chat, che sicuramente sarete innumerevoli. Torino. Zio Garbe, c'è ragione? Siete così chiusi a Torino? Siete così... Così introversi? Siete così... Sessualmente repressi? Zio Garbe, ma lei bestemmia quando pesca solo terre? A voi. Ti chiedo se bestemmia quando peschi solo terre, Zio. No, in live no. Sì, sì, confermo, confermo. Gente di merda. Scopare alla vecchia maniera? No. Cioè, no. Vedi? Ma alla vecchia maniera in che senso? Cioè, che esci... Con la clava, intende? Con la vecchia maniera. Se la prima maniera era la clava. Giochate a Magic, ci fate con la figa. Vero, vero. Eh, ma Magic, cioè tipo, YouTube, nel momento in cui sono diventato single, pensavo tirasse di più. Beh, gioca a Magic del cazzo. Ma scusi, ma lei quanto c'ha di percentuali donne su me? Ecco, parliamo di questo che è un dramma, assoluto. Io c'ho 0,2%. Io ho il 3%. Il 3%? Sì. Ma ti posso raccontare... Alla vecchia maniera è senza presentativo. No, no, no. No, attenzione. Viga, viga. Qua adesso ti racconto una roba così un po' privata di quelli che mi scrivono. Gli account delle madri? No. No, delle fidanzate. Sai quante ragazze mi scrivono dicendo Ah, io sono la fidanzata di Tizio E noi guardiamo sempre i tuoi video la sera per addormentarci. Cioè, ho l'effetto ASMR. Ma no, per addormentarmi. Il che significa... Sì, il che... Ma più di una volta mi è stata scritta sta roba. Nel corso della mia lunga carriera su YouTube di tre anni. Adesso non... Cioè, in tanti mi dicono ti uso come ASMR. Allora, non per mandarmi. E quindi, grazie a che cazzo gioca a me. Cioè, quindi la gente mi rompe il cazzo perché gioco Best of One. Ma lasciatemi stare, che tanto mi guardano per la mia voce a Hasbro. È vera questa cosa. È vero, c'è la voce. Ma, allora, intanto adesso non per mandarmi, però a me mi hanno detto invece l'esatto opposto. A me mi hanno detto alcuni, alcune coppie. Mi hanno detto che guardano la live e mentre guardano la live, diciamo che fanno l'opposto che dormire. Beh, questo sarebbe da psicanalizzare, Jack. Per loro. Non lo so. Magari la differenza di tono, perché mi sembra che tu abbia un tono più alto. Sì. è più stimolante. Io invece ho questa cadenza. Sì, è molto vicina. Io più mi addormento con zio Jack. Poi metto sempre... Eh, vai. No, volevo vedere la lingua. Perché l'SMR è importante. Cioè... La lunghezza massima è la lingua. La possiamo fare di traverso la lingua? Può uscire la lingua verso... Non verso... Non sta guardando da una parte, dall'altra parte. Dall'altra parte. High level content. Mi piace. No, perché... Leggi il microfono. No, perché... A parte gli scherzi. Non so se segui un pochino la scena ASMR di Twitch Mondo. No, non la seguo. No, male. No, vabbè, male. Nel senso... Vabbè. Male in generale. È proprio una cosa che non riesco a capire, essere un boomer. Beh, male questa... Non è da capire. Ma lei ha un'arte e la buttiamo via, scusi. Cioè, devo fare il canale asimo. La gente l'ascolta per dormire. No, non lo capisco. Allora vaffanculo. No. Cioè, la ASMR invece... Cioè, non è soltanto... Come dire, la versione sexy portata dalle hot tub streamer su Twitch. Sono varie versioni di ASMR. Il sussurrato, con i vari oggetti, il microfono. Ci sono dei microfoni appositi. Sì, ho visto. Quelli con le orecchie. Con le orecchie, no? Ho visto. Ma... Perché dovrei passare il mio tempo così? Beh, per guadagnare, fondamentalmente. Ah, ok. Perché a un certo punto si scopre che il talento maggiore di Zio Garbe non è tanto il contenuto di Magic, ma bensì la sua voce. In quanto è estremamente rilassante. Cioè, qualcosa bisogna fare con la voce. Nel senso, bisogna sfruttare i doni di Dio nella maniera corretta. Non c'è nulla di più triste di un talento sprecato. Sì, però volevo impegnarmi su qualcosa di... come dire, che mi interessa di più. Tipo, voglio fare un corso di teatro. Sarebbe serio. Eh, tipo anche il doppiatore. Esatto. Infatti, manderò il mio curriculum per doppiare Chandra con questa voce. Cioè, beh, si potrebbe. Si potrebbe. Sì, sì. Si metterà vestito da donna? No. Mai? No, no, no. Ben che io abbia due sorelle grandi, non mi hanno mai travestito. Mi hanno travestito da giovanotti, che credo sia più traumatico. Da giovanotti? E poi io no. Da giovanotti. Beh, un pochino, la carnagione chiarissima, l'occhio azzurro, biondo. Che biondo. Eh, ai tempi avevo anche i capelli. A me avevo anche i capelli. Eh, ero bambino. Non è che ne hanno fatto l'altro giorno, che mi hanno vestito da giovanotti l'anno scorso. Ma voglio vedere una foto. Che avevo trenta. No. Di me con i capelli. Dov'è questa foto? Aspetta, aspetta, te la prendo. Ora. Ora. Allora, all'inizio pure io non ce li avevo. Quando sono nato, anche io non li possedevo. Ma poi adesso sono cresciuti a me, no. Aspetta, che ti trovo una foto, dai. Ma questa cosa... Tu intrattieni. Tra l'altro, sì, intrattengo, facendo delle altre domande. Ma una cosa fondamentale. Quando è che si sono cominciati a cadere i capelli? Eh, negli ultimi anni. Da quando ho iniziato YouTube. Da quando ho iniziato YouTube. Però oddio, oddio. Guarda. Non è collegato. No. Boh, forse sì. Qua cantavo. Qua cantavo e ne avevo di più. Vedi? Ma non avevo mai tanto. Vedo più capelli. Sembra Yagmoth. Non so perché. Ma perché c'è il riflesso e non vedi la carne a giù. Oddio, è vero. Sembro un nonno, cazzo. Ebbè, un pochino. Aspetta, ne trovo un'altra. No, questa non avete visto niente. Anche un po' di Yotobi, è vero. Anche un po' di Yotobi. Ma Zio Carb secondo me è un po' Yotobi della magia italiana. Ma no. Sì, un pochino. Allora, è quello che lo ricorda di più in assoluto fisicamente, senza ombra di dubbio. E anche il fatto di parlare in maniera... Lui è di Torino, anche l'accento. Yotobi è di Torino. Yotobi è di Torino, ma anche per questo fa sicuramente. Anche, ma anche in modi abbastanza così, pacati. Secondo me un pochino ce lo ricordano. Aspetta, adesso cerco. Devo andare un sacco indietro per trovare i capelli. Questo dovrebbe farmi capire che forse sono caduti prima di quel che penso. Nella pancia della madre. Sto contro se c'è delle foto dei selfie in placenta. Beh, oddio, cioè questa foto qua... Qua ne avevo un po' di più. Beh, e quello in mezzo? Sì. Ma è vestito da Dragula? Chi è il conte Dragula? Ma che cazzo vuoi? No, che cazzo voglio? Volevo sapere. Ho 17 anni. No, ero vestito... No, non capivo. Come tu un papillon, un cosplay oppure... No, 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 che papillon, sono le cuffie da hipster. No, io pensavo che quello fosse il colletto di Dragula. Siccome c'ha pure... Non so, perché non si vede malissimo. Ma tu fai cosplay... Eh, lo so, ma è una brutta strategia questa di mostrarti. So, qua qua come si vedono bene. Mamma mia! Guarda, guarda che figo! Mi piace un po' a blor della scena... Sì, sì. Tutti... Essere Zio Carmi mi piace... Essere un po' tutti. Eh, sì, esatto, esatto. Il biondino, il ciuffetto, il ribelle... Vabbè, adesso... Eh, allora... La sta vivendo male questa cosa del capello? No. Perché è questa cosa che potremmo passarci tutti, fondamentalmente. No, no, no. No, 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 no. Io, per esempio, penso che ci starei malissimo. Però, se io dovessi diventare calvo adesso, probabilmente la vivrei malissimo la cosa. Sì? Sì, perché penso che ci sono alcune... Penso, questo è ovvio che sia così. Sono alcune persone che stanno bene anche senza capelli, addirittura è meglio senza capelli. Io credo che io starei malissimo senza capelli. Senza capelli. E quindi è un po' un terrore. Addirittura li ho fatti crescere proprio per... Per questa paura. Per scongiurare. No, in realtà l'ho fatto per cambiare look. Però... Ah, per cambiare look, cambiare vita. Non l'ha vissuta male questa cosa? I capelli tipo... L'ho vissuta male da giovincuello, poi sti cazzi. Cioè, se mi devo deprimere per questo, c'ho 10 milioni di cazzi da gestire. E attirava di più. Figa, oppure cazzi, a secondo di quello che le piace, non lo so ancora. Quando avevo più capelli. Attirava di più? Eh, diciamo che così pochi non ne ho mai avuti, quindi vedremo quando avrò voglia di conoscere donzelle. No? Adesso vedremo. Ma quindi non c'è... Aspetta, quell'altra cosa, quell'altro momento era fondamentale, secondo me. Qual è? Il 3% di donne, no? Eh. Su YouTube. Eh. Ma quindi quante ne ha conosciute attraverso internet? Dai, diciamo questa è la cosa più importante, secondo me. Attraverso internet come zio Garbe? Come zio Garbe, certo. Chi se ne frega di Tinder. No, conosciute single nessuna. Zero. Quindi lei sta dicendo perché era già fidanzato, perché ha vissuto una vita molto morigerata, fino a poco tempo fa. Quindi diciamo che non ha mai sfruttato la sua fama. Ma con chi l'ha sfrutto, Jack? Che quando parla a una ragazza di YouTube e dico Magic... No, ma che c'è? Mi dicono, ah, Yu-Gi-Oh! Ma non per strada, che va per strada e dice, ehi, sono uno YouTuber, no, che c'è? Più o meno l'ho fatto. E non l'ho funzionato. No, no. Abbiamo po' di... No, però... Dicevo io, attraverso internet, proprio che la contattano lei, alcune ragazze... Non ha mai conosciuto una ragazza per zio Garbe, perché è zio Garbe. Ma sì, te l'ho detto che mi contattano, ce ne sono un sacco di ragazze che mi scrivono parlandomi dei loro fidanzati. E io sono contento di questa cosa. E sono sempre fidanzate queste qui? Sì, perché mi conoscono tramite il fidanzato. Quindi non esiste una donna... Quindi non c'è nemmeno una di donna che la segue, non fidanzata, non accoppiata. Non esiste. No, ma ti dico anche questa cosa. Quando ho fatto l'iniziativa delle uova di zio Garbe... Sì, che non so cos'è. La ripetala, la ripetala. A Pasqua ho fatto l'uovo di zio Garbe con un amico cioccolataio, dove dentro c'era Colossal Dreadmo, firmato. Poi chi trovava il dinosauro con la firma d'oro veniva ospite sul mio canale. Un genio, praticamente. Sì, sì, un genio del marketing, lo so. Grazie. Geniale. Anche se ti sbatti, perché io non l'avrei mai fatto, perché sono pigrissimo. Ma è mezzo, quello mi ha aiutato il mio amico, non è che mi sono messo io a far le uova. Grazie a Dio, direi. Willy Wonka della magia, esatto. Comunque, tutte le uova acquistate, tranne un paio, sono state acquistate dalle ragazze per il fidanzato come regalo. Certo. Beh. Beh. Ti fa capire. Sì, perché mi fa capire? Ti fa capire che con YouTube non c'è storia. Cioè... E nemmeno attraverso Twitch, però, a questo punto. E non lo so, devi dirmelo tu. Io Twitch l'ho fatto... No, no, io volevo sapere la sua esperienza, perché io ne ho conosciute moltissime. Ma io Twitch l'ho fatto pochissimo, ho fatto pochissimo Twitch. Ma io un po' di ragazze le ho conosciute su Twitch, cioè... Ma fra streamer, dici? No, 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 spettatrici. Spettatrici? Eh sì, certo, di questo stiamo parlando, spettatrici. L'ascendente che ha lo streamer... Ma penso... Magari perché lì c'è una questione oggettiva di magari tu sei più attraente, e quindi... Ma che c'entra questo? Non è vero. Eh beh, è chiaro, eh sì, eh sì. Ma questa cosa è compensabile anche dal numero di follower che uno ha. Cioè, io posso essere pure molto più bello di un tizio, però se questo tizio ha un miliardo di follower... No, no, è vero. Sì, i numeri fanno, certo. Ci sarà uno youtuber inguardabile, che però ha tipo 20 milioni di follower, e che sicuramente tromba comunque in mano. Ma... sì, ma non è quello che cerco io, mettiamola così. Sì, no, per dire... Che c'è, noi stiamo parlando proprio, lei cerca l'amore. Io cerco l'amore. Ma mi piace il commento di War Games Channel. Lei è amico delle donne, mio caro, è così pacato che ispira troppa fiducia. Oddio, c'hai ragione. Ah, quindi sei preso. Dovrei essere più estro... Oddio, io sono estroverso, attenzione. Cioè, io sono estroverso, mi ricarico nella socialità. Ma... però è vero, cazzo, sono pacato. Cioè, non è che faccio il matto. Beh, infatti, io sono un po' più matto, diciamo. Tu sei più matto. Ma io sono matto... Poi sono peggio di lei nella vita vera. Perché io praticamente sono una riserva. Cioè, io riservo le energie per la live. Cioè, quindi sono una candela che si brucia in fretta. Poi mi scarico e poi vado a dormire. E dormo tipo 16 ore e poi mi sveglio e faccio live. Sì, comunque sì, sono nella friendzone. Sono appena finito di nuovo nella friendzone. Ma è un... sempre, sempre. Ma infatti, io sono campione di uscita dalla friendzone, porca troia. E che cazzo, diciamolo. Sei uscire dalla friendzone? Come vai? Assolutamente sì. Le tre relazioni che ho avuto negli ultimi dieci anni partivano come amicizie. E io, a testa bassa, arrampicandomi sui muri, ne sono uscito cazzo. Quindi, anche se voi mi dite queste cattiverie che io divento solo amico delle donne matti, matti, io tre volte sono uscito dalla friendzone. Ok, però a questo punto tre volte ci deve dare tre consigli su come uscire dalla friendzone. Ad esempio, ce n'è uno molto molto famoso, che recita così. Come disse Padre Pio, inizia così, vediamo se la chat ha capito. La regola dell'amico fake. Come disse Padre Pio, chat, aiutatevi, perché lo zio non la sa. No, non lo sa. Non lo sai come disse Padre Pio? No. Lo zio ha... Mi ha scapito. Hanno scritto, hanno scritto, hanno scritto. Vedi che la gente... Comunque la gente è colta, dai, è bello. È bello avere un po' di spettatori, perché praticamente è come un algoritmo... Vabbò, è come avere Alexa. Ma perché c'è un po' di ritardo, cioè il delay, perché così non... Sì, sì, no, più gente hai, più la risposta ti piove dall'alto in chat, è bellissimo, adoro io, infatti, in Twitch e tutto. Ecco, quindi dicevamo, ecco, quello potrebbe... è stato quello? L'ha mai mandato... Non ha mai mandato un nude nella sua vita? A nessuna? No, no, ma fortunatamente per le altre persone, aggiungerei. No, non ha mai mandato una dick pic, così si dice, in maniera elegante. No, no, tu sì. Beh, sì, un sacco di volte. Adesso, oddio, mi mandi una dick pic e poi ti mando. No, 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 no. Ma oddio, non volevo offenderti, eh, per carità di Dio. Beh, un pochino, un pochino sì. No, scusami, scusami. Mi ho fatto sentire un po'... Sono un po'... così, sono un po'... Facile. No, no, vabbè, scusami, mi dispiace, sono... Ero preso dal fervore... Allora, vorrei solo tre consigli, tre consigli, zio, dai. Tre consigli per uscire dalla prezzo, noi so che lei è un grande esperto, e poi passiamo a magia, perché già si sono fatte le 3.25... Eh, porca merda. ...e il tempo vola con lo zio, prego, prego. Eh, sì, sì. E il secondo che c'è la sabre fa un casino della madonna. Devo disattivarle, non sono riuscito a disattivarle perché sono uno streamer scarso. Grazie, bro. E via, come al solito, dal parlare di figa, si passa al cazzo. Oddio! Grazie, signor Problemi. Oddio, c'ho Instagram che sta esplodendo. Veramente c'ho Instagram. No, no. Zio Carbe su Instagram, mandategli tutti i direct delle... No, no. ...delle che preferite. È molestia. Innumerevoli dick pic a zio Carbe in privato, molestiamolo, tanto è uomo, si può fare, prego. Se continui così entri nella friendzone di Jack, oddio, ma posso uscirne. Posso uscirne. Andiamo, 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 quindi? Tre consigli, oddio, ma io... Vabbè, dai, togliamo il tre, che sembra troppo schematico. Ci dica quelli che sa, se sono quattro meglio, se sono due sti cazzi, prego. Oddio, ho letto un articolo ieri, in realtà. Aspetta, chiedo a Google, uscire. Ma come l'ha detto, tipo, è una gag. È una gag. Friendzone. È una gag. Boni. Sei passaggi testati. Allora, zona amicizia, uscire, vediamo se c'è i punti. Evita di metterla su un piedistallo. E tu lo fai, effettivamente? Ovvio. Segui questo consiglio? Certo. Prendi le distanze. Ma ne vogliamo uno di zio? Chi se ne fotte di Google? Ce l'abbiamo tutti Google. Ah, io guardo su Google, eh. Avvero? Ci crede in queste cose? Sì, mi stanno arrivando davvero delle dickpink. Non le mostri, non le mostri in live! No! Le dickpink per me! No, a questo punto ci dica, ci dica cosa prova. No, i sentimenti, no, davvero. Cosa sta provando con le varie immagini? Intanto sono diverse. No, 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 ma sto scherzando, non mi è arrivata una dickpink. Non sono arrivate? No, no, mi piace trollare. Volevo fare una dick reaction, quindi. No, va bene. Cosa ti pensa allora di Midnight Hunt? Dai, torniamo strisciando nella magia. Torniamo strisciando nella magia. Bello, un bel set. Mi hanno detto che da draftare fa schifo. Vero? Non l'ho neanche draftato. Beh, minimamente. Potremmo essere... E lo dica che si diverte finalmente in un luogo in cui non vige la regola del politically correct. No, sì, io mi diverto. Entro i limiti, però. Entro i limiti, perché sennò... Sì, sì, no, mi dissocio, mi dissocio. Sì, sì, sempre. E la chat, è sempre colpa della chat. Comunque no, Midnight Hunt mi sta piacendo un botto come set in generale, ma da draftare ho letto solo insulti, quindi non c'ho neanche provato. Vero? Vero? Però, onestamente, invece noi ci stiamo divertendo a draftare Midnight Hunt. Ho letto qualche commento negativo. L'ho letto, però... Sì, sì. Per quello motivo, quali sono queste critiche al draft? Sentiamo, entriamo al dettaglio. Ah, ho letto solo che è uguale all'esperienza di draft di D&D. D&D mi ha fatto schifo. Di formaggio di D&D? Sì, scusami. Vabbè, perché c'è un colore che è troppo dietro degli altri e giocano tutti i blu-nero? Questo l'hanno detto. Sì, 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 questo ho letto sta cagata. Poi posso dire la verità? Sì. Io non amo più tanto draftare. Mmh, peccato, mannaggia. Come mai? Come mai? Invece io sono innamorato del draft. Forse il formato che ti piace di più. Il formato che ti piace di più. Il problema è che io ho draftato tutta la vita perché non avevo i soldi per comprarmi mazzi. Scusi, posso mettere una musica triste qua? Ma no, eh? Perché sembra che è tipo sindarella man. Tu non avevo i soldi! Ma tu al liceo come facevi a comprarti un mazzo modern? Un c'era modern? Modern magari no. Però invece io ricordo l'esatto opposto. Io appunto avevo problemi a draftare da piccolo. Ho draftato pochissimo. Perché? Minchia, perché tutti i draft che devi fare dovevi uscire i soldi. Mentre il mazzo standard te lo facevi scambiando le carte anche. Magari ti compravi un mazzo all'inizio, ti compravi in fumetteria, ho frequentato moltissimo in fumetteria, facevo scambi tutto il giorno. Sì, beh, quello anch'io. All'inizio, ogni tanto magari compravo qualche parte. Però noi draftavamo un casino. Eh, micchia, draftare costa. Cioè ha un costo draftare. Sono 10-15 euro da botta, sempre. Sì, ma fra amici anche meno, eh. Perché dividevamo il box, c'avamo gli amici grandi. Quindi ho draftato più che giocare costruito in realtà ai tempi. E quindi diciamo l'ha sdegnata. Eh, sì. Poi in realtà con Arena avevo ripreso a draftare un botto, poi mi sono rotto il cacchio. Quanto era forte a draftare? Eh? Quanto era forte? Quanto eri forte a draftare? Ma io non sono mai stato forte, ma ne ho mai fregato poco di essere forte. L'aspetto for fun, insomma. Aspetto for fun. Vabbè, ma noi che qua siamo forti, eh. Attenzione, noi che qua siamo. Beh, però comunque è un giocatore di livello. Ma professionista no, però ho capito. Ma dai, non si sminuisca, signor Pepto, Lenzio. Sono, allora, io ho la skill necessaria per fare quello che faccio. Ok. Nel senso, non riuscirei a vincere Pro Tour, non riuscirei a vincere Gran Prix mondiali, ma anche solo ad arrivare, probabilmente. Ma perché? Ho perso al final boss per qualificarmi al Pro Tour. Cioè, tipo, un annetto fa circa. Però capito, arrivo lì, manco i quali... Cioè, dovrei testare molto di più, dovrei fissarmi molto di più sul competitivo. A me non mi interessa, a me interessa creare contenuti di Magic. Eh no, è certo. E la mia skill, basta, per fare quello che faccio. Sì, sì, ma infatti è il bilancio giusto che deve fare un content creator, no? Nel senso, un content creator è difficile, sì. Cioè, Power diceva, i migliori content creator sono quelli bravi a intrattenere e bravi a giocare. Certo. Però non tutti sono Power e, soprattutto, ogni content creator ha un po' il suo storytelling. Cioè, a me guardano i miei video per addormentarsi, a te invece guardano per tutto lo storytelling che hai creato del tuo canale. Oltre che vederti giocare. Beh, diciamo che, diciamo che, poi alla fine sono i numeri che contano. Quindi, non è tanto per... No, è la felicità che conta. Come? È la felicità che conta. Sì, vabbè, la felicità è data dai numeri, lo dica, che non lo dica, non lo dica. E la verità è che Limited mi dava numeri più bassi di costruito, ok, l'ho detto. No, 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 diciamo. TV verità, come quella di chi prendi una volta. Eh, mi sono liberato da questo fardello. Eh, che cazzo. No, non è vero. Cioè, è anche vero, è vero che mi dà meno numeri. Mi ha sempre dato meno numeri del costruito. Però... È importante, cioè, nel senso, è importante. Comunque dicevo, se la guardano perché si addormentano le persone, però la guardano tipo il triplo delle persone e guardano me perché sono bravo a giocare, sti cazzi, molto meglio, molto meglio la sua situazione. Cioè, l'importante è comunque essere guardati nell'universo di content creator. Essere anche contenti, però, eh, mentre lo fai. E essere felici. Certo. Per questo ci sono tante, ci sono tante interpretazioni. Cioè, c'è gente del settore che dice che i content creator, come me, sono il cancro. E ci sta. Cioè, sentiamo, cosa vuol dire questa roba? Cioè, che portano l'intrattenimento invece che il gioco nel dettaglio. Nel senso, ci sta come interpretazione, però io non porto una partita nel dettaglio. Cioè, se uno vuole vedere una partita analizzata nel dettaglio, sbaglia a guardare me, ok? Sì. E la gente ogni tanto dice, questo è sbagliato, perché comunque col mio canale YouTube, con la reach che ho, non insegno magic. Insegno a cazzeggiare, divertirmi col gioco, quando invece in magic e in altri giochi c'è la concezione, no, uno deve essere forte, deve fare le cose perfette. Non stai educando a diventare migliori giocatori, ok? Io non sto per niente educando a diventare migliori giocatori. Oddio, non è vero, io ci provo in buona fede, eh. Sì, ma perché secondo lei non riesce a essere... cioè, quanto si dà? Da 1 a 10? Che voto si dà? Eh, come cosa? Giocatore di magic? Giocatore, giocatore, giocatore. Oddio, te l'ho detto che... Sono a scala da 1 a 10. Se si dovesse dare un voto, lo dia anche la chat. Date un voto a Zio Garbi da 1 a 10 e Zio Garbi si darà anche un voto. Però non faccia media dalla chat, non copi. No, no, non guardo, non guardo la chat. Prima dico il mio, anzi prima faccio dire alla chat così non li, non li influenzo. Però io ti dico anche questo, che ci sono stati dei periodi dove ero più forte. Ok. In generale di altri, tipo in questo periodo che poi cazzi al lavoro, con il fatto che sono tornato single, che ho un po' di crisi, cazzi miei, non sto più giocando. Se mi dai ora e ti guardi il mio ultimo video, ad esempio, ho fatto cagare. Cioè, ma l'ho fatto cagare, però ho fatto... L'ho fatto cagare a giocare? Sì, sì, ho fatto cagare, ma me ne rendevo contro mentre giocavo. Ma scusi, ma c'è una pena masochista? Perché non essendo in diretta, gli errori sono tagliabili. Cioè, nel senso, può anche rifare... Ma non ho abbastanza tempo, no, no. Però lì c'è un po' di masochismo, le piace un pochino? BDSM? No, 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 quello no. E perché da poco tempo e quindi appena c'è una partita dove si vede bene la mia idea di deck che ho costruito, anche se ho fatto la cappellata, lo lascio e amen. Ok. Adesso faccio un po' di gossip. Dica, dica. A Chirone, mio grandissimo amico a Chirone, lui ad esempio, se fa un errore in un video, ci rimane male. Lo so. Perché è proprio un'altra tipologia di content creator, ok? E ogni tanto ci confrontiamo su sta cosa. Invece, se io ho la misplay e nei commenti mi dicono, zio hai sbagliato qua, ormai la gente lo sa che sono incapace e quindi lo accetta. E dice, vabbè, ho sbagliato, tutto in che imparo. Però quello che volevo dire prima è che in questo periodo, ad esempio, mi do un 3,5 perché non ho seguito il meta. Ci sono dei periodi... La chat è stata particolarmente gentile con la sua persona. Vabbè, ma la chat è, grazie a cacchio, la chat è troppo carina, ma è come con le ragazze, vinco di simpatia. E dalla fine è riuscito a modificare male anche la mia chat, cioè è diventata tutti carini, tutti i sorrisi. E certo, vedi? Bacini e abbraccio. Per questo è zio Garbe, cioè... La specie di virus, il virus degli abbracci. Ci vogliamo tutti bene! Il virus della paciosità. Zio Garage, come... Eh sì, ad esempio il duca di Aerson è stato un po' anche una mia fonte di ispirazione. No, è il duca di Acast. Lo segui ancora? Segui ancora Acast? No. No, non riesco. Ok. Ce l'ho riprovato. Ce l'ho provato anche con Autocess, come si chiama lì, il... Autocess. Battleground. Quello è bello però dai. Quello è bello. Sì, mi ero divertito un po' ma... Quello è divertito molto, bellissimo. Stocca... Cioè, basta dopo un po'. Troppo ripetitivo. Bisogna spararla a qualche parolaccia. Mi piace di più TFT per... Sbora. Variati. No, poi leggevo... No, ascoltavo cosa che non dovevo ascoltare. Qua chiedono... Vabbè, qua chiedono una cosa alla quale non può rispondere. Però invece può rispondere. Allora, noi... Non so se lo sapeva già, se ne era conoscenza. Siamo grandi anche stimatori, appunto, delle hot tab streamer su Twitch, no? Lo so. Le seguiamo con molta... Con molta dedizione e molta attenzione. Con un occhio abbastanza critico, perché... Ok, ok. Molto differenti, alla fine. Si scruda con attenzione. Differenti talenti. Sì. Sei un talent scout. Con la tua chat. Io un pochino ce l'ho questa cosa. Cioè, sono un po' talent. Ma solo sulle hot tab? No, no, no. Su tutto, su tutto. Sono un po' la Mara Maiocchi, no? Cioè, mi piace. Mi piace un sacco. Come dire, mi piace la sensazione di essere... Di pensare di essere il primo a scorgere un talento. Il delmo l'ho creato io. Il delmo l'ho creato io. L'ho creato zio. L'ho creato io. Ma non è vera questa cosa? Il delmo esiste tipo da 70 anni. Sì, lo so. Mi piace trollarlo ogni tanto noi parliamo. Ok. Detto ciò, detto ciò. Vogliamo... Visto che è anche single. Poi direi di chiudere qua. Eh. Perché qua è già un'ora che parliamo. Ecco. Marco Troia. Non abbiamo detto una roba di Magic, se non che... Cioè, ma questo è il bello. Che la gente si aspetta Magic, Duval, invece... Eh no, out of nowhere, invece cazzate. No, invece di farli addormentare, li facciamo accoppiare. Oh, più amore, più amore. Quindi, qual è il suo tipo? Sicuramente. Vogliamo fare il suo tipo esteticamente, no? Cioè, perché a secondo del profil, della profilazione che lei ci narra adesso, della sua... Vuoi dire? Intanto donna, giusto? Gender donna? Sì, sì, sì. Donna, ok. E allora, a seconda... Meglio nel senso che noi conosciamo molto di più donne, quindi possiamo già affibbiarle direttamente una streamer... Ok, ok, è chiaro. Adatta alla sua persona. Dica, quindi, qual è i tratti principali? Tratti fisici o personali? Tutto, tutto. Intanto fisici. Fisici. Beh, tu le conosci, immagino, anche per la personalità. Assolutamente, certo. Quindi magari posso anche, nel senso, esprimere quello che io cerco. Certo, assolutamente, ma l'estetica, l'estetica comunque non è mai casuale. C'è sempre comunque un riflesso della personalità nell'esteriorità. Sì, dai. Beh, sì, se lei fosse stato un pazzo furioso, probabilmente questa sera aveva i capelli di Malgioglio. Non ce li ho i capelli, quindi non posso farlo. Che cazzo mi chiedi? Appunto, ti sei messo una parrucca. Ah, ok, ok. Comunque, un pochino mostriamo ciò che, di solito, della nostra personalità e anche fa parte della nostra esteriorità. Un po', un po', sì, dai. No, non è d'accordo. No. Così. Cioè, se vuoi, dissiamo, ma no. Sì, dissiamo. Comunque, ti descrivo la mia donna ideale. Sì. Che non mi metta nella friendzone. Così non mi devo impegnare a uscire. Sentiamo, sentiamo. Questa è la prima caratteristica, che non mi metta nella friendzone. Vabbè, questa caratterialmente. Sì, sì, sì. Vuole essere desiderata, però non fa parte. Oh, per una volta, per una volta, non mi frenzonate. Beh, bionda, occhio azzurri. Non sono mai stato con una ragazza bionda nella mia vita. Beh. Cioè, era tinta una, ma bionda vera mai. Eh, beh, beh, beh. Bionda anche azzurri, quindi. Sì, sì, sì. Ok. Ha preferenze sulle misure? Ma, grosse. Se dico, grosse, le tette, lei è un team tette, quindi. Sì, sì, sì. Quindi lei preferisce le tette al culo? No, beh, adesso, cioè. Se deve decidere un culo. Diamo i voti. No, proporzioniamo. Sì, dica, dica. Le misure, cosa? Vabbè, tutto. Come dice Gianni Morandi, deve starci in un calice. Ah, quindi la coppa di champagne, sempre le cantine. Sì, sì, sì. Non ne interessa, diciamo, il... Baccato, baccato, mancherei un maiale. Ma non è essere maiale, è che naturalmente la gente... Cioè, c'è questa proiezione che, oddio, Zio Garbe, deve essere tipo un rete. C'è l'alert che non si sente una minghia. Grazie Gianni Magalli. Vogliamo un draft in coppore. Quindi ci abbiamo spratto in un capo. Ha detto che il draft non lo vuole fare. Non lo vuole, ma, grazie, comunque, per questo. 5 euro. Vogliamo un draft in coppi, ragazzi cuore rosso. Grazie mille. Che supporti, volevo dire. Stavo dicendo, c'è questo alone che... Oddio, è santo, Zio Garbe. No, cioè, sono un umano. Sono un umano. È successo una volta che ero in centro ubriaco. Così per degli ultimi ciuffi. Dei ragazzini... Ragazzini, oddio. Sì. Dei ragazzi mi hanno fermato. Sì. Hanno detto, facciamo un video insieme. Ma io ero ubriaco. E ho iniziato a dire, che bello questo venerdì sera, invece era un sabato sera. E tutti stupiti dal fatto che io fossi ubriaco. Ma raga, anzi? Cioè, nel senso, no? Beh, evidentemente proietta queste immagini. No, no, non li ho picchiati, no? No, non li ha picchiati. Mi picchiavano loro al massimo. Proietta queste immagini, insomma, di bravissimo ragazzo. E quindi tutto casa e chiesa. Ma è orcatore, proprio no. Cioè, proprio no. E ho capito. Ma le dà fastidio che c'è questa immagine di lei? Le dà fastidio? No, no, cioè, a me non me ne frega molto. Cioè, se tu, se facessi qualcosa di sbagliato, del tipo, che ne so, picchio Akira, ecco, quello mi spiacerebbe, mi vergognerei del mio gesto, ok? Sì. Cioè, sarebbe una cosa negativa, non mi piacerebbe rappresentare una cosa così negativa. Rappresentare una cosa positiva, sì, ma non mi idealizzate. Cioè, c'è gente che, oddio, mi vede e dico, oh, ma che cazzo vuoi? Sono un coglione come te. Basta, sta roba. Le dà fastidio, si mette in imbarazzo per questa cosa. Sì, mi mette in imbarazzo. Un po' la YouTube, no? Che si imbarazza. Mi mette un po' in imbarazzo, sì. A te non ti mette in imbarazzo. No, perché non mi conosce nessuno. No, vabbè, al negozio ti riconoscono, dai. Al negozio non sono mai stato. Non ho ancora invitato nei negozi, oddio. Ma non è che ti devono invitare, devi andare a giocare, gioia. Devo andare. Vabbè, ma se non ci sono, se c'è il Covid, è tutto chiuso. Vabbè, grazie a cazzo, ma va bene. Sì, nei negozi di Magic penso di sì. Ma non l'ho ancora fatta questa esperienza adesso. Non lo so, penso di sì. Penso che, non lo so, se seguono Twitch, probabilmente sì. Però... Ma sì, se non tu, cioè, se sei Jack Torrance. Eh, vabbè, però sì, se gioca a Magic, probabilmente sì, probabilmente sì. Ma scusami, tu rimorchi, tu rimorchi con Twitch. Vabbè, ma non è di qua perché Jack Torrance, non lo so, perché appunto, perché vedendomi molte persone, può passare la ragazza alla quale interesso anche. Ok, devo parlare di Twitch allora. Eh, certo, certo. Per esempio, sono venute varie ragazze a volte a casa mia, attraverso Twitch. Vabbè, ma non è una cosa così strana. Ma spiegami, ma spiegami. Ma non è una cosa così strana, ma non c'è niente da spiegare, è normalissimo. Le volte che dico, sono zio Garbe, ah, ci seguiamo su Instagram, guarda, ho pure rimosso delle foto. Cioè, guarda, adesso c'ho un profilo Instagram. Ma le dick picche le avete mandate, scusate. No, guardavo, guardavo. Ma gliela mando io, guardi, zio, veramente. Mi scuso con la community, una figurina così barbina, non pensavo l'avremmo mai fatta. Gliela mando io personalmente. Anche un bel profilo. Ho messo pure a posto, ho tolto tutte le cose dei video YouTube. Ah, finalmente. Brutta la cosa dei video YouTube. Eh, lo so, lo so. Eh, lo so, lo so, infatti tolta. L'ho tolta, ma anche perché quando riscaricherò Tinder, almeno metto delle foto dove ci sono. Quindi il primo passo per finalmente proiettarsi nello zio Garbe trentenne, nello zio Garbe del futuro, nello zio Garbe che sa che può vivere anche tranquillamente single, emancipato dall'altro sesso. a Tinder, lo zio Garbe del futuro. Sarà Tinder. Cioè ce l'avrai Tinder, userai Tinder. Sì, 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 l'avevo usato in passato. Ma, vabbè, l'ho anche riscaricato subito dopo essere stato lasciato, ho parlato con una ragazza o due, ma non mi sono presentato agli appuntamenti. Ah, veramente? Ah, sì, ma era troppo, troppo recente. Attenzione, vabbè, però queste ragazze erano abbastanza carine. Probabilmente il ragionamento a posteriori è che se fossero state più carine ci sarei uscito. Ecco, diciamola tutta. Diciamola tutta, che non c'entra niente. Diciamoci la verità. Abbiamo detto bionda con gli occhi azzurri, giusto? Sì, sì, abbiamo trovato. Allora, secondo me possiamo... Di più le donne dell'est, le polacche, le russe, ucraine, piacciono molto. Abbiamo i sessi gusti, zio. Porca miseria. Ci pestiamo i piedi. Poi ce ne sono moltissime nell'universo di Magic. Sarà... È stata una risata sbagliata. Comunque, comunque sì, abbiamo lo stesso gusto. A questo punto io il nome in mente ce l'ho. Lo faccio dire alla chat, che è ancora più erudita di me. A zio Garbe piace la ragazza bionda con gli occhi azzurri. Quale potremmo mai consigliargli? Vediamo se c'è un unicum di Melina. Stranamente. La signora Melina. Ma chi è Melina? Anche mi sfai. Melina. Melina su Twitch. Melina su Twitch? Guarda dietro. Perché tu la c'è? Potrebbe anche essere in live in questo momento. Melina, una streamer di Magic su Twitch. Straniera. Ok. Se la guarda... Allora, le dico, la può guardare su vari canali. Uno è Twitch. Insomma. Vediamo Instagram. Uno è Twitch, l'altro è Instagram. Diciamo che possiede... Perché qui sto guardando il mio amico Jack Torrance in sto momento. Non vorrei rovinarmi il momento. Melina? Melina, Melina, Melina. Melina si chiama. Melina e basta su Twitch. Ma ce ne sono un botto di Melina. No, non posso farla sta cosa oddio. Insomma, vedevo un pochino di tette, tra l'altro, che fuori portata sua. Che le non stavano nella coppa di champagne. Ah, ok. Ma non so qual è. Melina Gorasson. Melina Gorasson. Su Instagram. Gorasson, Gorasson. Melina Gorasson. Gomez Gorasson fa un account. Eh, no. Non fa un account. Vediamo se... Carina. Eh beh. Eh, è caldo. Noi ci preghiamo di vino buono. Eh beh, sì. Eh, allora, diciamo, diciamo che... Se Melina Gorasson le avesse putacaso scritto su Tinder... Ah beh, sì, ovvio. E se lei fosse anche lasciata da un... Diciamo cinque minuti. Diciamo anche che non era ancora lasciato. No, no, no. Diciamo che ancora stava bella sua fidanzata. Quello no, quello no. Non ci sarebbe nemmeno un... Non ci sarebbe... Neanche una bella un caffè. Niente. Nemmeno un ciao. Niente. Quindi le crede... Crede profondamente nella monogamia. Giusto? Sì, sì, sì. Ma è geloso? Sono romantico. Persona gelosa, molto? Io no, no. Quello no, però... Però se la sua ragazza le dice a un certo punto esco con un amico stasera e non dice nient'altro, cosa risponde lei? Che... Si indispettisce, si ingelosisce? Se non lo conosce questo amico. Che è successo, senza far nomi, che una relazione, non dico quale, fosse compromessa da estrema gelosia nei miei confronti. Tu dici, che cazzo sei geloso di Zio Garbe? Effettivamente non c'è un cazzo di essere qui geloso perché ti sto dicendo che non si muove niente. Femmine su YouTube. Eh, capito, cioè... Però, tipo, avessi detto esco con un'amica, mannaggia, mi avrebbero tranciato upalle. Eh, e lei non dà fastidio? Cioè, vuole continuare a spazzare in questo genere di situazioni? Era gelosa e il mazzo dinosauri, quello sì. C'ha ragione. Zio Garbe è meglio di scamarci, non ho due. Eh, che forse lo facciamo pure il bestemmia. Tra l'altro in questa live non si bestemmia, zio. Eh, infatti mi son trattenuto. Bravo. Beh, è bella però questa cosa. Cosa? No, mi piace sviscerare, come dire, gli aspetti dello Zio Garbe in amore. No, in amore. Sì, sì, in amore. In amore, proprio, in amore. Ah, ok. Eh, sì, sì, sono un personaggio complesso, eh. Eh, capito, da analizzare. Sì, sì. Ma fate qualche domanda, adesso leggo qualche domanda dalla chat e poi lo abbandoniamo. Addios. Che a mezzanotte la carrozza si trasforma in zucca. La regola dice una rentola. A luce di questo, abbiamo donne alla magia in chat che vogliono conoscere Zio Garbe? Sì. Per esempio, sì, dai, visto che questo canale è intriso di donne, se c'è una che vorrebbe conoscere veramente Zio Garbe... No, davvero, davvero. E seguitemi su Instagram, lo puoi che mi piace, l'ho migliorato. Facciamo una cosa, se ne abbiamo molte, possiamo fare una cosa, Zio? Facciamo una promessa. Se ce ne sono molte qui candidate, possiamo fare un giveaway. Un giveaway? Chi vince? Ma questo è sessismo, mi dissocio. Perché? Ma no, no, non si fa sta cosa. Sessismo, non l'ho capito. Perché sessismo, scusi, che vuol dire? Ma no, non si può strumentalizzare con un giveaway una donna. Ma no. Non c'entra strumentalizzare. No, perché ho dieci donne che ambiscono a uscire con lei, noi estraiamo una fortunata e quella che vince esce con lei una sera, così. Gianculotto, Pasco la Chiappe, mi chiede un deck per battere elfi in historic. Insomma, un'autorità nel mondo di Magic, ha visto? Chiedono pure consigli. Lord non mi sa di donna, Lord. Zio, mi consiglio un deck per battere elfi in historic. Però è il nickname che non mi permette di interpretare seriamente la domanda. Cioè, Gianculotto, Pasco la Chiappe. No, tra l'altro... Se comunque scegli questo nickname, Gianculotto, mi viene difficile. Puoi scrivermi su Instagram, in privato. Ma è un'occasione per lei per trovare il vero amore. Che fa? Si ritira? Dicono, giustamente. Ascolti la nostra moderatrice. Ah, c'è Consuelo che sta... C'è Consuelo che sta... C'è Proserpina, Consuelo, che sta a Torino. È di Torino. Per esempio gioca a Magic. Ah, vabbè, questa è una cosa rara, effettivamente. E gioca a Magic. Proserpina, dia un voto a Zio Garbe. Ascoltiamo un voto femminile. Tra l'altro, anche un voto potenzialmente, come dire, possibile. Ah, che bel power. Chiedere di Michele. Ciao, sono un'altra bella occhiazzurri, prosperosa. Voglio conoscere Zio Garbe e chiedere di Michele. Zio, cosa fa se le entra un pellicano in casa? Lo accoglierei. Ma dopo che mi piove in casa, in questa casa potrebbe anche succedere del pellicano, eh. Io penso che lo mangierei. Cioè, proverei. Ma se ne pensano orribili, eh. Ma cazzo, un pellicano è un animale stupendo, maestoso, incredibile, forte. Perché i cavalli sono animali orribili e brutti e cattivi. Sono persone orribili, cavalli ha ragione. Sì, i cavalli sono persone orribili. Se cambio il sesso nelle posizioni di account di Twitch, posso partecipare al giveaway? Oh, non c'è una singola ragazza qua. Zio Garbe è da sposare. Eh sì, sì. Io sono Mora e Terrona. Aia. No, vabbè, ma io sono aperto. Attenzione! Non è vero che ha aperto al Trison. Ha detto che è geloso e vive la coppia solo in monogamia. Ah no, quello sì. Beh, quindi lei veramente non contemplerebbe mai un letto con più individui. Mi metterebbe a disagio, mettiamola così. Beh, questo è possibile per tutti, nel senso... Però nel momento in cui sono due persone, facciamo finta che sono due sue ex fidanzate che però non si conoscono. Non è il momento di farmi queste domande. Ah perché ci sono le fidanzate che guardano in questo... No, vabbè, mi crea disagio rispondere a una roba del tema. No, era per dire, per dire che non prova disagio, non prova disagio sessuale. Buonasera signori, cosa ne pensate di questo letto? Che non è una novità, nel senso... Nel senso, si sente a suo agio, era per dire, si sente a suo agio con due ragazze. A due ragazze forse sì, mi sento a mio agio, ma... Sì, sì, no, dicevo con due ragazze, con due ragazze. Ah beh, sì. Per questo ho detto due sue ex. Beh, con le due ex mi sentirei a disagio. Certo, perché sono ex, però... Eh, che cazzo. Eh, però se non fossero ex e non fosse a disagio, avesse bevuto. Ma... A me piace il mazzo tra mutanti, il mazzo lupi mannari. Pensavo il mazzo. No, ma... Quei che greve, così, no, dai. Scusi, a me piace... Beh, a me piace il mazzo, scusi. E faccio la domanda, se vorrebbe stare con due donne, mi dice che a me piace il mazzo. Scusi, non è che... Ma no, nel senso... Sarei a disagio. Ok, va bene. Non saprei come gestirla. Però la vedrebbe male come cosa. No, però... Cioè, non ha un'eccezione, non ne pensa male di questa pratica. No, 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 beh, quello no, oddio. Io futto tranne che bigotto, eh, porca troia. Beh, ovvio. No, stiamo cercando di scrostarle un pochino di dosso. Ma tu... Questo valone di santità. Ma ecco, questo... San Francesco. Ma ci sta, questo è, dare una buona idea di me, sono contento, ma bigotto assolutamente no. Cioè, sono la persona più aperta di mente nell'accettare qualsiasi roba. Beh, qualcuno lo potrebbe pensare. Un tramuzante femmina, sì. Qualcuno lo potrebbe pensare? Sì, sicuramente chi non entra nel dettaglio, nel conoscermi e vede un video, si fa un'idea, ma secondo me chi mi segue lo sa. È l'Alberto Castagna di Twitch, ma chi? Speriamo di no. No, spero nessuno dei due, visto che comunque è passato dal miglior video abbastanza presto. Anche. Possibilmente il canale di Zio Garbe si trasferisce da Twitch a Pornhub. Zio Garbe, gentile fuori, furioso, a letto. Zio Garbe mostri il pazzo aureolato, faccia strage. Ottima questa cosa, lei come si definisce a letto, Zio Arzio? C'è un mezzo... Dica, dica, dica! Lo vogliamo sapere, non si può più tirare indietro in alcun modo! Dica le sue misure adesso! Le mie misure medie. Medie, vabbè. Però sono generoso. Ah, attenzione, generoso. Quindi è un Likitung. Sì. L'evoluzione, che non so come si chiama. E l'evoluzione di Likitung mi sembra che non esiste. Esiste, esiste. Ma Gesù, sì che esiste. Non lo so, io mi sono fermato alla seconda generazione, sono... No, io sono andato, guarda, no, io mi sono comprato il nuovo. Ah, c'è la... Ma per lavoro, per lavoro, per aggiornarli. Quindi è generoso. Quindi lei trae più piacere dal piacere del partner o della partner. Likki, no, non si chiama Likki Likki, dai. No, dicevo... L'evoluzione Zio Garbes ci sta. No, dicevo, le trae molto più piacere... Fate un meme, oh, ragazzo, con la lingua. Allora, praticamente come funziona, quindi? Trae più piacere dal godimento del partner anziché da... No, vabbè, adesso, no. Perché stiamo parlando di... Zio, vieni a commentare con me il draft di questa generata. Ma chi fa il draft? Chi si era fotte del draft? Ma qual era questo racconto? Garbetung. Vogliamo sapere questo racconto, Zio. Ci di che racconto, dai. Il racconto di... C'è un racconto divertente? Su cosa? Eh, ho capito, del suo essere a letto. Era... Finiva sul generoso? No, sì, non è divertente, è generoso. Però mi sapeva di cringe parlarne su Twitch. Cioè, nel senso, è una cosa nuova, è un'esperienza nuova. Mi sono aperto anche a questa nuova esperienza di parlare di queste cose in live con 300 e passa cristiani che mi ascoltano. Ha visto? Ma in realtà su YouTube l'ascoltano molto più persone di così, eh? Sì, ma non parlo di queste cose, parlo di Dec. Quindi lei è pudico? Io non so. Grazie, West. Bellino, ringrazio pure, Zio. Dicevo, quindi, non è pudico, è un po' pudico, è un pochino. No, no, non sono pudico. Però... Su internet forse sì, no? No, lo so, no. Perché lo chiedo a me? No, lo so, chiedo al... No, beh, nel senso, cioè... Sì, nel senso, parlo di magic sull'internet. Si sente un po' a disagio a parlare di cose, diciamo che... No, disagio no, però è una cosa... Una sfera privata e intima. Allora, diciamo che tendenzialmente io sono una persona che non parla di me stesso, a parte stasera in live. No, vai tranquillo. Grazie, signor Defteros. Chiocciola Jack Torrance 90 perché c'è gente che dice... ...invece di giocare al PC, andate a scopare, oh, e tu pensi a giocare invece di andare a donne? Ma perché... Un po' un po' mi viene in soccorso. ...non si può fare anche se uno ha la passione dei videogames? Come è arrivato? Tian è arrivato a salvarmi la faccia. Tian, aiuto. Un altro santo. Allora, Tian è un santo. E se è veramente un santo, invece. Sì, sì. Tian è santo. Tian è veramente santo. Tian è santo. È santo, è santo. Ma gli è caduta addosso la padre Maronno. Sì, esatto, 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 la padre Maronno. Sì, 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 sì. Vabbè, quindi, compriamo questo discorso. Un pochino, diciamo... Sì, dai, ammettiamolo un po', Michele. Un pochino. Vabbè, ma questa cosa la fa soffrire, no? Tanto non soffrire. No, no, no. No, io no, non soffro mai. Sennò in tutti i giorni che mi sveglio. Mamma mia, non fai a Leopardi. Pessimismo, cosa c'è? Ci sveglia un po' a Leopardi? No, vabbè, non è vero. Leopardi è molto più brutto della sua persona. No, ma che carino, grazie. Molto, molto più brutto, molto più brutto. Io spero, mi auguro, un giorno si possa ricordare il nome di Zio Garbe, un po' come si ricorda quello di Leopardi. Lo spero anch'io. Mi interessa questa cosa che rapporta con la morte. Ah, io ho la fobia della morte. Anch'io. Sono tanatofobico, l'ho imparato da poco. Sì, 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 so, io ho la fobia della morte. Vero? Non è terribile questa cosa? Che a un certo punto non si esiste mai più? Sì, sì, sì. Non crede nell'aldilà, quindi? No, purtroppo. Ci ho provato in diversi modi. La paracolata. No, vabbè, non definiamola così, però ho studiato tanto, perché a me in generale piace studiare la mitologia, la religione, in generale mi piace studiare cose. E quando ero più giovane mi ero avvicinato, se si può dire, al buddismo. Certo, perché mi era piaciuto molto. Mi piace ancora adesso moltissimo, infatti ho tutta la mia collezione di buddha lì. E lei vuole fare le cose. Magic, Pokémon, Buddha. Likitung da stasera. Likitung anche. Però non ho risposte. Io sono ossessionato dalla conoscenza e non aver risposte mi crea disagio. Grazie a Tian che mi supporti. Ma ormai è degenerato tutto, Tian. Tipo uno di quei casting su PH che sarebbe Pornhub, dove Zio e la ragazzina innocente ha la famosa fotografia, quella in cui è attorniata. C'ho soltanto io, sono anche di segmentazione chiara, quindi non capisco per quale motivo lei pensa a queste cose. Ma chiudiamo su una cosa. Chiedo io, una cosa importante per me. Ma c'è il Delmo. Salutiamo tutti, anche il Delmo. Ma io sono... Come faccio a diventare famoso come lei su YouTube? Un consiglio. Eh, dovresti pubblicare tutti i giorni. Lo faccio. Sempre a deck differenti. Sì. Eh, vai avanti. È un grind. È un grind. È un grind. È un grind. Un maledetto grind. Però lei è esploso a un certo punto con un video, giusto? Quello di Ogo. Non è quello di Ogo. No, 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 io ero esploso prima. Ero esploso con Monoblue Temp. Esploso. Ma qui c'è stato un video che aveva qualcosa di speciale rispetto agli altri. Sì, erano le... Successe qualcosa, una scintilla. Le guide al Limited, addirittura. Cioè che mi avevano fatto fare da zero iscritti a quei clamorosi 500. Quindi le guide, guide tipo da zero? Nel senso tipo Aranzulla? Proprio come... No, 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 era tipo le migliori dieci carte per il Limited, per il pre-release di... L'ultimo che ho fatto era... Quindi sì, un tutorial, una sorta di tutorial, quindi. Sì, sì, sì. Però quello che mi ha fatto esplodere è stato un Monoblue Tempo aggro, perché l'aveva portato anche Poli. Ok. Ok. Ah, e quindi ha cavalcato... L'ha fatto lui e hai detto, faccio pure io? È stata una strategia oppure no? No, 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 a caso, di culo. De botto, sì. Poi vabbè, Oko, tutti credono che mi ha lanciato, ma Oko in termini di iscritti non mi ha... Ha fatto solo molte visual. Sì, ha fatto solo molte visual. Ma noi sono innumerevoli euro, praticamente. No, ma quei 40 euro che mi hanno permesso... 40 euro per un video, capito? C'è chi si spacca la schiena, capito? Eh, capito, cioè, che cazzo sto ancora lavorando, dovrei fare tutti i video così. Però il video che mi ha portato più iscritti è stato UV Control. Sì. E io non sono un giocatore di Control, cioè io addirittura non mi piace giocare Control. Quindi è pure un contrapasso. E cosa aveva di... come se lo spieghi? No, a cazzo, cioè, a cazzo. A cazzo. Era un video di merda, pure senza l'ed... Ci sono dei video dove faccio tutto l'editing carino, col meme. Quindi non c'è un consiglio. Mi stai dicendo semplicemente che devo avere culo. No, devi andare dritto a manetta e poi ce la farai. Devi avere culo nella vita, le disengente. Culo nella vita. Non solo. Culo è saperlo riconoscere. Di aver avuto culo e sfruttarlo. Assolutamente. Bisogna essere umili, è importante. Devi fare titoli forti tipo Asfaltiamo la ladder, deco 89... No, ecco, quello no. Quello... Mi potete criticare tutto, ma io clickbait... Non ne fai. Se lo faccio, lo faccio con goliardia. Sì, anch'io. Lo faccio anch'io. Con goliardia. Però, cioè, se dovessero dirmi però questa cosa funziona. Scrivi, ma probabilmente lo farei. YouTube, nel senso, io lo YouTube lo vivo in maniera molto meno viscerale rispetto a Twitch. YouTube, io ho aperto YouTube solo e esclusivamente per portare pubblico su Twitch, punto. Cioè, non è una cosa che... Non sono mai stato YouTuber. Ho imparato a usare Movie Maker 2012. Sto facendo... Uso Movie Maker io per YouTube. All'inizio scaricavo le live intera e le caricavo, proprio a questi livelli. E funzionava, eh. Cioè, funziona. Pure prendere la live intera e buttare due ore, che schifo, funziona. Sì, sì, funziona se sei una personalità, perché se l'avessi fatto all'inizio non funzionava. No, no, invece... Sì, però funziona nel senso che riesci a portare utenza da YouTube. Funziona perché sei Jack Torrance. Però porti utenza da YouTube a Twitch. Cioè, vuol dire che stai attirando gente nuova. Te l'ho già detto più volte, tu sei uno streamer professionista. Cioè, cosa che non è comune. E quindi, per te funziona. Ma se io devo consigliare a qualcuno che inizia YouTube, non gli direi mai carica una diretta da due ore. Cioè, per quanto puoi fare clickbait, thumbnail bella, è un contenuto che non avrà successo mai. Io ho iniziato a editare, infatti. Ho iniziato a editare, adesso... Però, nel senso, comunque vivo YouTube... Ci ho preso un pochino gusto, eh. Perché, essendo io abbastanza appassionato anche di cinema... È bello. Mi piace il montaggio, cioè, mi diverte montare. Però è una cosa che prende troppo tempo. E, onestamente, se dovessi... Ovviamente, tutta la vita, se dovessi decidere ad abbandonare una delle due cose, abbandonarei sicuramente YouTube. E non ci fallirebbe, perché senza YouTube è persa. Però... Io no. Io, ad esempio, mi esprimo molto meglio su YouTube perché... Mi piace creare lo storytelling del mazzo. Cioè, io quando porto un mazzo, ci faccio una storia dietro. Nell'editing, nel come lo racconto. Cioè, mi piace questo aspetto che su Twitch non riesco a esprimere. Perché su Twitch, nelle mie dirette, motivo per cui ho anche smesso, finivo più a chiacchierare che a giocare a Magic. Chiaro. E allora non piaceva per me. Cioè, preferivo chiacchierare con l'utenza che giocare. Ma allora che contenuto era? Cioè, un conto è questa diretta, un conto è fare live così. E allora ho detto, boh, basta. Cioè, non è per me. Se no, faccio un canale di just chatting e hot tub. Così, debotto, senza senso. Va bene. Signor zio. Va bene. È stato un piacere averla qui con noi. Anche per me mi sono divertuto. Divertito un casino. Sicuro? Sì, dunque. C'è un po' qua che cercava di stilare il dissing, dicendo, quanto si è pentito. Non rispondendo. No, non è stato lui, è stato qualcun altro. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Sempre. Mi è venuta la febbre, la seconda dose del vaccino, ho dormito tutto il giorno. Ora entro tutti, c'è la prima cosa che sento, eh? Una domanda sulla misura del pivo di zio Garbo. Medio, medio. Ne piccolo, ne grande. Ne piccole, quindi nella media italiana? Sì, nella media, dai. Nella media italiana, ragazze. Sì, sì. O ragazzi, insomma. Vabbè, no, ragazze a lui interessano ragazze, quindi niente. Cari ragazzi, mi dispiace. 29, la media italiana. Va bene, basta così, dai, concludiamo questo video. Magari, cioè... Eh, la 29 è poi un problema. Può dirlo che non tornerà mai più, vero? Ma non è vero, non è vero. Ma qua praticamente dicono che praticamente io le sto sul cazzo, questo voglio non farle dire. Ma non è vero, ma gioia, ma... A parte che non è vero, ma chi lo dice poi? Non lo leggo? Sì, io l'ho letto prima. Ma qual è il suo content creator preferito di Magic? Zio Garbo. Vabbè, a parte... Il secondo. Cacco matto. Il suo secondo preferito. Cacco matto. Eh no, no, non posso scegliere. Perché non lo fa? Il polidegramma mia. Perché non lo puoi scegliere? Ma va, io sono amico con tutti. Ma ci sarà una sua preferenza, non faccia l'ipocrita. Ci sarà una preferenza? Facciamo così, internazionale te lo dico. Ma perché? Internazionale, ce lo dica pure italiano, dai. Perché ha paura di inimicarsi tutti gli altri dalla classifica? Mamma mia, che sono tutte fighette. Beh. Sì. Ma sì? Ma come dire? No, scherzo, che dissono. Cioè, se mi dice che non sono io, non è che mi metto a piangere. Ma allora, ti voglio dare la risposta sincera. Sì, non c'è. Non segue nessuno. Non c'è. Perché non ho il tempo di seguire. Ma come neanche tu seguirai me. Cioè, noi che facciamo content creator, non ho il tempo di guardare gli altri. Zero, zero. Cioè, paradossalmente... Però in realtà c'è del tempo libero nella sua vita. Cioè, se un contenuto fosse particolarmente interessante, per la sua persona lo guarderebbe. Certo, a tempo verso è ovvio che non c'è tempo di vedere a me. Però, ad esempio, io col nuovo lavoro sto guardando un casino di dirette. Un casino di dirette. Live. Ma live, sì, di altri. Su Twitch. Ma su Twitch. Ma non avrei voglia di guardare Magic. Non è... Ok. Perché Magic... Ma perché Magic? Già lo faccio come Zio Garbe. Cioè, nel tempo libero faccio roba per lavoro e ci sono giochi che, ad esempio, a me divertono di più da guardare. Non esiste un suo preferito. No, mettiamola così. Poi, se ti devo dire, per conoscenza, per quanto ho approfondito l'amicizia e per tipologia è, ti dico Akira. Ok. Per quanto ho approfondito l'amicizia. Sposta un po' banale e scontata, diciamola tutto. È paracula, ma lo so anche io che è paracula. È una lotta questa risposta. Però, se è sincera, la accettiamo comunque. Se è sincera, la accettiamo comunque. Perché, collaborando con Akira e facendoci un video ogni settimana, podcast, so che tipologia di content fa, a differenza di altri. Certo. Sì. Va bene. Sì. Ti piace? A me è... Risposta democristiana, lo so. A me certo. Beh, risposta democristiana. Lei è democristiana un pochino. No, non è vero. No, 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 no. Non è democristiana. Allora non è servito un cacchio a venire qua. No, no, no. No, non è democristiana. Non pensate che sia democristiana. Casa Pound. No, no, neanche quello. Ma non è andato sulla politica. Perché ha votato l'ultima reazione, zio? Ma non si dice. Non si dice che ti vuole dare donne. No, no, no. No, 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 no. Politica non ne parlo mai. Mai. Ok. Mai e poi mai. Né a lavoro, né con gli amici. Però ha già detto non democristiana. No, ha già detto due cose, no. No, allora, attenzione, non sono un democristiano. Cioè, neanche come approccio. Certo. Ok. Casa Pound è anche un approccio. Casa Pound è anche un approccio troppo. No, cioè, mi dissocio. Poi io non parlo di... Lo vedo zingarettiano, lo vedo po'. Porca... Poi in Italia adesso chi dovrei votare, dai. Sì, il Conte, dai. Così. Il Conte è bello. Però è bello. Il Conte è molto carismatico. È bello, Conte. È bella estetica, no? Sì, sì. Ti piace un pochino. Cioè, come parla, mi ispiro a lui. Sì, sì, sì. Salviniano, no? Ma raga, ma basta, basta. Come Salviniano, no? Allora, attenzione, si sta inimicando tutti i leghisti in chat, attenzione. Eh, ma no, perché poi io ho amici di destra e ci parlo e siamo amici. Ma infatti, ma infatti. Io sono super aperto. Ma infatti io penso che sia una cazzata questa. Cioè, per quale motivo? Se uno è in divergenza su un argomento, potrebbe essere politico o altra cosa. Per quale motivo, automaticamente, allora ti tolgo il follow, non ti seguo più, ti sta sul cazzo. Che ci devono essere se tifoserie in cui si devono per forza odiare le squadre opposite. Cioè, questa cosa io la detesto. Cioè, incredibile, secondo me. Ma... Sto leggendo cose assurde. Dica, dica, dica. Zuberber non è un comunista, sarà un pro player, un noob, ma non è una pornostar. Io mi lievo, che fa sempre ridere. No, però il discorso è che io non... A me piace la politica, mi piace studiare la sociologia, ma non mi piace parlarne con le persone perché, a differenza mia, non sono in grado di affrontare... Quindi, diciamo, non vuole... Ha un po' paura del fatto che va a perdere una fascia di utenza, fondamentalmente. No, perché la gente, chi mi segue, sa cosa penso. Ah, ok. Ok, cioè, non sono come... Quindi è questa posizione, in realtà. Se sa cosa penso, sì. È successo, sì. E lì ho ricevuto degli insulti, mi ha molto stupito, ma non mi ha... Ha stupito, mi è rimasto male, ci è rimasto male. No, 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 perché... È un carattere che si scivola addosso, in generale. Anche nella vita o solo sul web? Perché sul web... No, no, sulla vita, perché se no non vivrei, cioè, anche per la tipologia di lavoro, in generale, che ho fatto negli anni, se non mi scivolassero addosso le cose... È bello. È una delle migliori caratteristiche possibili, secondo me. Cioè, è una di quelle che ti fa stare meglio possibile nella vita. Cioè, avere la capacità di essere idro-repellente. Beh, è anche una questione di diventare adulti, secondo me. Ma io conosco un sacco di adulti che sono estremamente permalosi. E che vivono male il giudizio e che non vivono per paura del giudizio. Che non sono se stessi perché mettono al primo posto la soddisfazione degli altri, anziché la propria. Ci sta. Cioè, anche io sono umano, nel senso, se c'è una ragazza che mi piace e mi dice no, sei una merda, ci rimango male. Però vado avanti. Cioè, la cosa che mi ha dato più dolore nella vita, e sono una persona fortunata, attenzione, perché... Sì? E quando sono stato lasciato nell'ultima relazione. Quest'ultimo, quindi, male male? Male. Sì, sì, sì. Beh, beh, alla mia veneranda età... Dopo cinque anni... Ma realmente quanto si sente depresso ancora? Io sono stato depressissimo quando mi sono stato lasciato. Anche io sono stato... Ma io l'ho preso malissimo. Ma io, no, l'ho preso malissimo. Ma lei, due o tre mesi e mezzo, mi dice che non sta... Io sono stato male tipo un anno, almeno. E ho avuto una buona reazione, ma da settembre. Chiamala così. Cioè, un conto è lo zio Garbe di agosto, un conto è lo zio Garbe di settembre. Ovunque ho avuto una ripresa anche abbastanza celere, cioè sono contento. Meglio. Sì, sono contento anch'io, ma meno male. Ma se vuoi è anche grazie al lavoro che sto facendo che ha dei ritmi che mi distraggono, dai. Certo. Come dire, catapultarsi e concentrarsi tanto su un'altra cosa, occupare la mente in un altro modo, funziona. Sì, diciamo che chi ha più patito è stato zio Garbe di questo. E ancora adesso sto un po' facendo fatica a uscirne. Sai che io sono diventato uno streamer praticamente per questo? Cioè, io facevo un pochino, così facevo delle live, però facevo delle live così una volta, tipo due, tre volte a settimana, così a cazzeggio su HS, perché io giocavo ad HS. Però poi quando sono stato lasciato, per occupare la mente, mi sono lanciato a capofitto, facendo live, ho iniziato a fare live tutti i giorni dal momento in cui sono stato lasciato. Quindi ho iniziato, sono diventato fondamentalmente uno streamer, ho iniziato la carriera da streamer professionista per occupare la testa, per, proprio mi sono lanciato a capofitto su un'altra cosa. Punto. Eh, io invece... Sono concentrato su un'altra cosa. Sono stato disfacente. Invece... No, io totalmente differente, poi me ne vado, giuro, che io sono un egocentrico, come tutti noi streamer, quindi per parlare di me vada avanti ora. Vada, vada. Invece per me, zio garbe è la parte migliore che riesco a esprimere, e quindi nel momento di debolezza, depressione, non riesco a esprimerlo. Non depressione, oddio, vera, eh, cioè, per carità di Dio. Nel momento di bassezza dell'umore, non riesco a esprimere bene zio garbe, perché zio garbe per me è l'espressione migliore di me. Invece, quando, ad esempio, cantavo, nella banda, anni, quando ero giovane, con i capelli, anni, anni, anni fa, pacchetti di sigarette indietro, un botto... Fuma? Fuma ancora? Eh, ho ripreso adesso, perché sono a dieta. Cioè, che cazzo, non bevo, non mangio, fatemi fumare, vaffanculo. Ciao, mamma. Ma poi srismetto. Comunque, dicevo, la musica, invece, tirava la parte peggiore di me. Cioè, quella più triste, e basta. Finito così, ciao. È stato bello giocare in allegria. Cioè, sono un inconveniente che il tempo vola via e vi lascio draftare dopo questa... Bella direi, io mi sono scassato, eh, volata per me, volata. Spero anche per la chat e per te. Buon pectorranse. Ladies and gentlemen, zio garbe! Buonasera. Adios! Adios! Su YouTube, su YouTube ancora continua a fare contenuti. Quanti a settimana? Eh, in risposta a scombo sempre, un video, almeno un deck a settimana, ci provo a farlo, dipende dal... Dal mio umore, come vi ho comunicato. Dall'umore! Adios! Adios, da umori, rip, rip, compena, vesti meccanica. Adios! Adios! Adios!